Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie estiva dedicata alle colonie del Regno d'Italia. Sta finendo l'estate e anche la serie sta progressivamente arrivando alla sua conclusione. Abbiamo parlato dell'Eritrea, abbiamo parlato della Somalia, abbiamo parlato della Libia, quattro puntate. Siamo andati a recuperare anche la vecchia puntata dedicata alle colonie in Cina e tra qualche settimana dedicheremo tre puntate alla conquista dell'Etiopia. Ma prima di tornare in Africa c'è ancora una colonia di cui parlare. Una colonia che molto spesso si dimentica, anche perché è relativamente piccola, curiosamente considerata poco importante dall'Italia, eppure una colonia molto particolare, le cosiddette isole del Dodecaneso. Come vedremo nella puntata il termine colonia non è proprio esatto, anche perché ci furono varie definizioni relegate a queste isole, che sono un gruppo di isole attualmente facenti parte della Grecia, che si trovano però molto vicine alle coste turche, in cui la principale è Rodi. Perché queste isole sono interessanti? Beh, perché come vedremo si cercherà di attuare in queste isole per molti anni una qualche forma di convivenza tra varie comunità. La comunità italiana, che ovviamente governava le isole, e le comunità locali, che erano la maggioranza greche, ma poi erano anche musulmani, la maggior parte originari proprio della Turchia, e anche popolazione, una popolazione di religione ebraica. Tra tutte queste popolazioni i rapporti saranno molto antalenanti, ed è questo di cui parleremo oggi. Vi dico solo una cosa, è molto difficile trovare materiale su queste isole. Ve lo dico subito sul periodo coloniale. Viene trattato veramente molto poco, avevo trovato qualcosa nel libro Oltremare, fino a quando non sono incappato in una bellissima tesi di laurea del dottor Filippo Maria Espinoza, ve la metto in descrizione perché la trovate gratuitamente su internet, che ha approfondito in più di 300 pagine proprio la storia del dominio italiano nel dodecaneso. Molto di quello che vi racconterò proviene da lì, l'ho ringraziato già personalmente, l'ho contattato su Facebook chiedendo se potessi citarlo. Se volete approfondire questo argomento, soprattutto dal punto di vista economico, ne parlerò, ma sarà ancora molto da dire, vi rimando al link in descrizione che è veramente molto molto interessante. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a parlare del dominio italiano nel dodecaneso. Se posso fare una piccola dedica, questa puntata la dedico a Francesca Sacchellaridi, che è un greca, però originaria di Rodi, segue il canale fin dalle primissime pillole, e mi aveva sempre chiesto di fare una pillola dedicata proprio all'impegno italiano nel dodecaneso. Beh, l'ho fatta, ci ho messo tanto tempo, ma alla fine sono arrivato. Ti ringrazio perché mi hai sempre mandato un sacco di materiale a questo proposito e quello mi ha ispirato ad arrivare anche a questa puntata. Ad ogni modo, del dodecaneso qualcosina abbiamo già detto. Se ricordate, l'Italia aveva acquisito il dodecaneso alla fine della guerra italo-turca, la guerra che è normalmente conosciuta più che altro per la conquista italiana della Libia. Il dodecaneso, diciamo, che inizialmente non era negli obiettivi italiani, ma di fronte al rallentamento in Libia, l'incapacità di conquistare una terra che sulla carta doveva aprire le porte agli italiani, e poi invece non si era rivelato così, l'Italia aveva deciso di fare pressioni direttamente sulla Turchia e per farlo aveva deciso di conquistare proprio questo gruppo di isole che si trova molto vicino alle coste dell'Anatolia. Le vedete qui a fianco? Il nome dodecaneso non deve entrare in inganno. Non si tratta di dodici isole, come direbbe il nome, molte di più. Anche solo le isole principali conquistate inizialmente dagli italiani erano tredici, diventeranno poi quattordici. Vediamo perché. Il nome dodecaneso deriva da un antico nome usato dai veneziani e poi anche dagli ottomani per indicare alcune di queste isole. Il nome che poi si è diffuso ad altre, ad esempio inizialmente non comprendeva Rodi, che invece sotto il dominio italiano divenne il centro della vita politica della colonia, e poi venne poi utilizzato dagli italiani proprio per indicare i propri domini. Ora, quando gli italiani conquistarono queste isole nel 1913, sulla carta si doveva trattare di un dominio solo temporaneo. E in effetti gli italiani inizialmente si limitarono a prendere un controllo militare della zona senza fare grosse pressioni sulle popolazioni locali, che fossero greche, che fossero turche, limitandosi più che altro a cercare di bloccare qualunque sedizioso, qualunque rivoltoso, e possibilmente bloccare i rapporti con la Turchia. Inizialmente le popolazioni greco-ortodosse locali vedevano anche di buon occhio la conquista italiana. Questo perché speravano che una volta che gli italiani si fossero ritirati dalle isole, potessero in qualche modo concedere a quelle isole una sorta di autonomia, una sorta di autonomia che avrebbe potuto riportare prima o poi le isole all'interno del territorio greco dello Stato greco. In realtà l'Italia, dopo averle conquistate, iniziò a cambiare idea su cosa fare di queste isole. Nella pace di Losanna, o pace di Ushì, ci sono varie forme per indicare questo trattato, comunque il trattato che pose fine alla guerra italo-turca, sulla carta gli italiani avrebbero dovuto restituire quelle isole alla Turchia, ma questa restituzione venne indicata come da farsi solo dopo che i turchi si fossero completamente ritirati dalla Libia. Gli italiani iniziarono a giocare su questo punto, dicendo che i turchi si avevano ritirato le forze militari, ma dall'altra parte continuavano a sostenere i ribelli, che come abbiamo visto continueranno a tormentare gli italiani in Libia per molti anni. E proprio su questa ambivalenza gli italiani iniziarono a giocare sostanzialmente per dire alla Turchia che attendevano per restituire quelle isole. Perché lo facevano? Beh, perché subito dopo la fine della guerra italo-turca, l'impero ottomano, la Turchia, era crollata di fronte agli stati balcanici nelle guerre balcaniche, anche di questo non abbiamo parlato, ricordate la serie sui Balcani. Questo crollo faceva in qualche modo presagire all'Italia che l'impero ottomano potesse essere pronto ad un crollo definitivo. E per l'Italia l'interesse non era solo quello di mantenere quelle isole, ma di utilizzare quelle isole come possibile trampolino di lancio per estendere la propria influenza anche proprio sulla penisola anatolica. Proprio per questo, prima che scoppiasse la prima guerra mondiale, gli italiani iniziarono a fare altre rivendicazioni. Iniziarono a dire che avrebbero ceduto le isole solo in cambio di qualche accordo sulle ferrovie anatoliche, dicendo che era una contropartita per i lavori che gli italiani stavano facendo sulle isole, e in generale rallentarono la loro restituzione. Poi cosa successe? Beh, come tutti lo sapete, nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale, e alla fine dell'anno anche l'impero ottomano scese in guerra al fianco degli imperi centrali. A questo punto l'Italia decise di prendere un'altra strada. Se fino a questo momento aveva giocato in maniera, ripeto, molto difficile sui vari piani diplomatici, a questo punto decise che quelle isole dovevano rimanere all'interno dei suoi domini. E addirittura quando nel 1915 si accordò con le potenze dell'Intesa, quindi la Francia, la Gran Bretagna, per il futuro ingresso nella guerra, chiese, e le potenze accettarono, chiese espressamente che le isole alla fine della guerra rimanessero italiane, che l'impero ottomano fosse obbligato a cederle ufficialmente all'Italia. In realtà nel corso della prima guerra mondiale la situazione sulle isole del Dodecaneso non fu facilissima ad essere sincero. Certo, dal punto di vista amministrativo gli italiani continuavano ad essere preferibili per i greci che avevano localmente rispetto ai turchi ottomani, e quindi sotto quel punto di vista non ci furono grosse rivolte. I problemi furono di tipo completamente diverso e furono soprattutto di tipo economico e alimentare. Ora, quelle isole avevano sempre vissuto di due cose, di commercio e di pesca, soprattutto pesca delle spugne, ma avevano poi sempre commerciato con le vicine coste anatoliche, che sono letteralmente molto molto vicine, lo avete visto dalla cartina, anche perché sulle isole la produzione agricola non era minimamente in grado di sfamare la popolazione presente, e quindi era necessario questo continuo commercio affinché le isole potessero in qualche modo sopravvivere. Lo scoppio della guerra, l'ingresso in guerra dell'Italia, che schierandosi ovviamente al fianco delle potenze dell'intesa, era entrata anche in guerra contro l'impero ottomano, avevano reso questa situazione molto peggiore, perché non solo i locali non potevano più commerciale con la Turchia, e quindi in qualche modo immagazzinare cibo, dall'altra parte anche la navigazione venne rallentata, venne rallentata un po' per motivi di sicurezza, perché anche se le flotte alleate in qualche modo controllavano il Mediterraneo, c'erano comunque in giro sottomarini, sottomarini dell'Austria-Ungheria, sottomarini tedeschi, dall'altra parte vennero limitate anche per ridurre il rischio che sulle isole potessero giungere agitatori o informatori provenienti dall'impero ottomano, che sfruttando le famosissime capacità di contrabbandieri degli isolani, che erano forse anche letteralmente sopravvissuti per anni proprio facendo i contrabbandieri, potevano raggiungere le isole. Il risultato fu che per permettere alla popolazione locale di sopravvivere, non di prosperare, di sopravvivere, fu necessario per i governatori militari che si erano insegnati sull'isola di iniziare ad importare cibo dalla madrepatria, cibo dall'Italia, soprattutto grano, un'importazione che col passare degli anni della guerra iniziò a calare sempre di più, rendendo sempre più difficile alla popolazione locale sopravvivere. Il momento peggiore si ebbe tra 1917 e 1918, quando dopo la sconfitta di Caporetto vennero ulteriormente ridotte le quote di cibo che venivano mandate, molto spesso peraltro granaglie di pessima qualità, e le isole piombarono letteralmente nella fame. Addirittura abbiamo delle lettere di delegati francesi sulle isole, delegati francesi, quindi insomma persone che probabilmente avevano accesso al meglio dal punto di vista di cibo, che parlano espressamente di fame anche nelle stesse legazioni. Quindi immaginatevi quale potesse essere la condizione per la popolazione. In questi anni quasi un terzo della popolazione delle isole emigrò, emigrò verso la Francia, emigrò verso la Grecia, in generale emigrò verso l'Europa, cercando scampo da quella pessima situazione economica e di fame. E c'è da dire che gli italiani non si opposero particolarmente alla cosa, tutt'altro perché far spostare una parte di quella popolazione, soprattutto quella greca, non solo gli permetteva di avere un miglior controllo del territorio, ma riduceva quelli che erano i problemi alimentari. Questa situazione, ad un certo punto, fu talmente tanto apprezzata dagli italiani che addirittura vietarono a coloro che erano espatriati di rientrare verso le isole, almeno questo fino alla fine della guerra, creando delle situazioni paradossali in cui ai greci, che peraltro all'inizio non facevano, non erano neanche implicati nella guerra stessa, era impedito di andare a visitare i loro parenti sulle isole. Tutto questo sempre per motivi militari, di spionaggio, ma anche proprio per ridurre le necessità alimentari sull'isola. Dal punto di vista politico, le cose cambiano alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando i confini vengono parzialmente riaperti e ovviamente anche le rotte di approvvigionamento, anche quelle che provenivano ad esempio dall'Egitto, permettono di far tornare ad aumentare l'arrivo di mezzi agricoli. Innanzitutto, alla fine della Prima Guerra Mondiale, l'Italia vede accrescere il numero di isole che controlla, perché un'isola, l'isola di Casterrosso, che è l'isola più orientale tra quelle di questo gruppo, la vedete qui a fianco, peraltro come curiosità è l'isola dove è stato girato il film Mediterraneo, quindi molti di voi magari l'hanno già vista anche senza esserci stato, l'hanno inserci stato. Bene, quell'isola inizialmente non era stata conquistata dagli italiani, anche se nel 1913 l'isola stessa era insorta e aveva chiesto agli italiani di occuparla, cosa che però gli italiani, per evitare scontri, anche data la difficoltà di difenderla, avevano evitato di fare. Durante la Prima Guerra Mondiale ad occuparla però erano stati i francesi che avevano stabilito una propria base per monitorare il traffico marittimo nella zona, ma alla fine della guerra, dato che era troppo lontana, dato che non vi era modo di mantenerla, i francesi avevano accettato che il controllo dell'isola passasse agli italiani. Alla fine della guerra in realtà l'Italia era tornata a valutare come cosa fare di queste isole, qualcuno ovviamente voleva tenerle, voleva trasformarle in un dominio definitivo, qualcun altro però pensava piuttosto di utilizzarla come merce di scambio e in effetti inizialmente qualcuno decise di seguire questa strada. Nel 1922 infatti gli italiani decisero di accordarsi con i greci, siamo ancora prima della presa di potere di Mussolini per intenderci, un accordo con i greci che prevedeva che l'Italia potesse cedere in quasi tutte le isole, venivano escluse da questa, Rodi e poche altre isolette, a patto che la Grecia accettasse che l'Italia estendesse il suo dominio, quantomeno una parte del controllo del suo dominio, sulla vicina Albania. Non era un grosso scambio, diciamolo chiaramente, ma l'Italia nel 1920 al trattato di Sevre, che magari vi ricordate quando abbiamo parlato della guerra greco-turca, e il trattato, il primo trattato che quasi spartì, lo vedete qui a fianco, la Turchia, la penisola anatolica tra varie potenze, bene, l'Italia aveva ottenuto una sua fetta di Turchia, e quindi, quella che sarebbe diventata la Turchia dell'impero ottomano, e quindi pensava di non avere più bisogno di quelle isole, perché ormai il ponte verso l'Anatolia c'era già stato, e quindi il suo territorio l'aveva acquisito. L'Italia, quando si accordò, fece questi primi accordi con la Grecia, in realtà, inizialmente, metterà come garanzia, prima dell'accessione delle isole, che sarebbe dovuta avvenire di lì a pochi anni, il fatto che venissero rispettate le clausole del trattato di Sevre. Come sappiamo, come sapete se avete visto le vecchie puntate però, le cose andarono diversamente. Il tentativo da parte greco di conquistare la penisola anatolica fallì miseramente, e la guerra greco-turca vide gli ottomani, guidati da Mustafa Kemal e il futuro Ataturk, che ribaltare la situazione e ricacciare i greci verso i Balcani. Il risultato fu che l'Italia perse il controllo sulla parte meridionale della penisola anatolica, e decise di mantenere invece il controllo suddecaneso. La cosa in realtà creerà un certo numero di scompensi dal punto di vista diplomatico, perché i greci ovviamente protesteranno, gli italiani cercheranno di far valere le loro ragioni, ad un certo punto anche la stessa Gran Bretagna entrerà nella contesa per evitare uno scontro nell'area, e Mussolini, intanto salito al governo, forse per dare una dimostrazione di forza, rischierà di complicare tutta la situazione, addirittura giungendo quasi a minacciare la stessa Grecia e la stessa Gran Bretagna, con i diplomatici italiani che riuscirono però a ricucire la situazione, e alla fine, nel trattato di Lausanna che pose definitivamente fine alla questione, le isole saranno definitivamente riconosciute come italiane, senza passare dalla Grecia, cioè la nuova Turchia riconoscerà l'accessione delle isole ufficialmente all'Italia, e in qualche modo questo chiuderà la contesa dal punto di vista diplomatico. Fino a questo momento però l'Italia aveva governato le isole in maniera molto leggera, cercando di mantenere il controllo soprattutto di Rodi, e lasciando una larghissima autonomia alle altre isole, che continueranno a governarsi seguendo addirittura il codice ottomano, che era stato in voga fino a quel momento, anche perché gli italiani non volevano fare investimenti su delle isole che non sapevano se avrebbero mantenuto oppure no. Le cose iniziarono a cambiare nel 1922, quando non solo la volontà di mantenere le isole iniziò a diventare abbastanza netta, ma quando giunse come governatore sull'isola un savonese, Mario Lago, che governerà le isole come governatore dal 1922 addirittura fino al 1936. Lago farà una lentissima opera di italianizzazione delle isole stesse. In effetti in quegli anni si iniziò a ragionare su quelle isole. Qualcuno ovviamente, come vi dicevo, le definiva colonie, si parlava di colonia bianca, l'unica colonia bianca dell'Italia. Qualcun altro invece, che non voleva dare un termine quasi denigratorio, ma voleva in qualche modo cercare un accordo con le popolazioni locali, parlava di possedimento. E in effetti questo nome, che diciamolo non vuol dire nulla, ma li spiazzava praticamente a metà dal territorio metropolitano e una semplice colonia sarà poi il termine utilizzato per tanti anni. E il dodecanese divenne un possedimento del regno d'Italia. Lago iniziò quindi una politica verso le popolazioni locali. La sua politica andrà ad agire su vari livelli. Innanzitutto cercherà di accattivarsi le popolazioni grazie a numerosi investimenti. Verranno costruiti edifici, edifici inizialmente nello stile locale, principalmente edifici peraltro che avevano uno scopo, quindi espansione del porto, che doveva diventare un grosso porto commerciale, espansione dei presidi militari, in previsione eventualmente dell'arrivo di nuovi soldati, ma anche molte costruzioni civili, con la costruzione di palazzi, di edifici pubblici, di scuole, e addirittura vennero costruiti degli alberghi, con l'idea in qualche modo di rilanciare il turismo sulle isole, che era visto poter essere in qualche modo un volano per la crescita economica. Più famoso di tutti fu l'albergo delle Rose. Dal punto di vista dell'amministrazione locale, continuò a cercare di rispettare le differenze tra le varie isole, e, come già era avvenuto durante il dominio militare, concentrare il suo potere soprattutto sulle isole principali, come Rodi oppure Kos, lasciando che altre isole invece godessero di una parziale autonomia. L'autonomia era così importante, seppur ovviamente sempre sotto controllo degli italiani, che mandavano magari dei funzionari sull'isola, Molto spesso, peraltro, questi funzionari erano ex militari che, giunti alla pensione, avevano deciso di rimanere proprio lì, magari attratti dal clima, o perché si erano fatti una famiglia in loco, cosa che, peraltro, lo stesso lago cercherà di spingere, per cercare di unire la popolazione italiana a quella locale. Sulle isole, quelle ovviamente che godevano di maggiore autonomia, questa situazione giungeva addirittura ad essere molto lassi, con un grosso lassismo, verso il contrabbando, che per alcune di queste isole era fondamentale, era una delle maggiori attività, quelle più produttive, e che durante il governo di Lago riprese verso le coste dell'Anatolia, con periodi di maggior stretta, periodi di maggior libertà, ma in generale riprese, costituendo una qualche forma di rapporto economico. Dal punto di vista della gestione politica, Lago poi permise a molte di quelle isole di mantenere anche una sorta di proprio consiglio direttivo, una demogerontia, cioè un organismo, una forma di governo, in cui persone, esponenti più importanti dell'isola, venivano votati dagli stessi isolani come propri rappresentanti politici. Molte volte questi erano affiancati da degli uomini che avevano una specie di funzione di sindaci, e facevano proprio da contraltare dal punto di vista politico alla presenza italiana, creando così dei governi non proprio paralleli, ma locali. Ora, i rapporti tra Lago e questi governi non furono sempre ottimi. Quando ad esempio Lago, nel 1926, iniziò a spingere affinché nelle scuole si iniziasse ad insegnare l'italiano, non tutte le isole presero la cosa in maniera positiva. Ad esempio Calinnos, che per quasi tutto il dominio italiano fu una delle isole più riottose al governo italico, Calinnos cercò più volte di rifiutarsi di nominare dei maestri. La cosa costrinse lo stesso Lago ad intervenire. Alcuni di questi consigli saranno cancellati, saranno sciolti, verranno indette nuove elezioni, ma in generale Lago cercherà sempre di mantenere un buon equilibrio. Addirittura non solo sostituendo quei sindaci, quei consigli che erano contro il volere degli italiani, ma addirittura intervenendo per far dimettere quei consigli che erano troppo a favore degli italiani e che per questo venivano magari accusati dai cittadini locali di corruzione. Negli stessi anni, da Roma, ma anche lo stesso Lago, cercarono di invogliare non solo l'arrivo di denaro da investire, ma di invogliare anche degli italiani a stabilirsi nendo decaneso. Ma questi tentativi non ebbero grossissimi risultati, perché anche a causa della forte presenza greca locale, non c'erano grossi territori in cui potersi espandere, in cui poter costruire, ma anche a causa della relativa povertà delle isole, arrivarono non più di 10-11 mila coloni, anche qui come in Libia vennero costruiti comunque dei villaggi colonici, e la popolazione italiana non superò mai le 16 mila unità, quindi un numero molto basso, composto per quasi un terzo, da cittadini temporanei, che erano giunti principalmente con l'amministrazione. Nelle isole però, dalla fine della Prima Guerra Mondiale, tornarono ad aumentare la popolazione, che alla fine del dominio italiano tornerà a toccare quasi i livelli pre-Prima Guerra Mondiale. Se non erano italiani però, chi erano questi che si trasferivano? Beh, erano principalmente greci e musulmani, che avevano abbandonato le coste della Turchia e si erano rifugiati proprio nelle isole. Questi, che erano fuggiti davanti all'avanzata delle truppe turche, quando poi questi avevano conquistato la costa del Mediterraneo, che fino alla guerra greco-turca, ricordate, aveva una fortissima presenza greca, mi rimando sempre alle pidole nella serie balcanica, magari ve le metto in descrizione, bene, qui il trasferimento di queste popolazioni sarà da un certo punto di vista accettato dagli italiani, dall'altro subirà delle forti limitazioni, proprio per cercare di ridurre la forza della presenza ortodossa in loco. Alla fine però, Lago, con le sue politiche e la sua abilità diplomatica, che diviene riconosciuta anche dai suoi oppositori, ci sono scritti di patrioti greci che continuarono a lottare per l'autonomia delle isole, il loro ricongiungimento alla Grecia, che scrivono apertamente quanto fosse difficile trattare contro di lui, che sembrava essere in grado di accattivarsi la simpatia di chiunque, bene, grazie all'opera di Lago, la situazione nelle isole rimase abbastanza stabile. C'è da dire che Lago non solo lavorò per l'integrazione tra le varie popolazioni, ma lavorò anche a favore delle isole stesse, attraendo nuovi fondi, e questo ovviamente era importante, ma anche cercando di fare tutta una serie di accordi con il governo centrale che potessero favorire i cittadini, come ad esempio quando si spese personalmente con il governo italiano, con il ministero delle colonie affinché venissero dati dei permessi proprio ai pescatori del dodecaneso perché potessero andare a pescare le spugne, che era uno dei maggiori prodotti dell'isola, proprio davanti alle coste libiche, non potendo più accedere a molte delle coste invece della Turchia. I buoni rapporti tra le due popolazioni vennero sanciti quando lo stesso Lago si spese affinché venisse creata una sorta di cittadinanza per gli isolani. Era una sorta di cittadinanza di serie B, un po' come quella che abbiamo visto comparve in Libia negli ultimissimi anni della colonia, una cittadinanza che prevedeva che chi l'aveva non era esattamente un cittadino italiano, non poteva essere reclutato direttamente nell'esercito, ma dall'altra parte non godeva di diritti politici, quindi insomma era una sorta di via di mezzo. Lo stesso Lago però insistette affinché potesse essere concessa anche la piena cittadinanza. A chi? Beh, a tutti coloro che soprattutto dalla fine degli anni 20, inizio degli anni 30, iniziarono a dimostrare sempre più fedeltà al regime. Molte volte infatti Lago era riuscito ad organizzare che i cittadini più meritevoli, soprattutto tra i giovani, una volta terminato il loro percorso di studi sull'isola, potessero continuare gli studi in Italia. Studi che molto spesso li portavano a diventare fedeli al regime. E una volta tornati a Rodi, questi, ovviamente non con un sistema automatico, ma previa valutazione proprio delle autorità locali, questi ricevevano la cittadinanza piena. Si tratta di numeri non molto grandi, parliamo di 200-300 persone, ma che in qualche modo mostravano come una parte delle isole avesse accettato questo dominio italiano. Le cose non erano però così buone dovunque, anche perché un altro degli metodi che cercò di utilizzare Lago per controllare la popolazione italiana fu quello religioso. Ora, la popolazione greca, come sapete, era ortodossa. Vi erano poi la popolazione ebraica, la popolazione musulmana, che però erano molto meno riottosi, perché stavano molto bene, quantomeno fino alla Seconda Guerra Mondiale, sotto il dominio italiano. Bene, la popolazione greca ortodossa era fedele del patriarca di Costantinopoli. Sapete che gli ortodossi sono divisi tra vari patriarcati. Gli italiani, fin dall'inizio, dato che però molti dei pope locali erano tra i maggiori esponenti di coloro che cercavano di lottare contro il dominio italiano, perché temevano che questo dominio italiano potesse anticipare una riconversione al cattolicesimo per le isole e il fatto che nel 1928 il papa avesse nominato un nuovo arcivescovo di Rodi aveva in effetti fatto pensare che questo potesse essere il piano. Bene, dato che non potevano ovviamente obbligare gli ortodossi a convertirsi al cattolicesimo, decisero di lavorare in un'altra direzione, cercando di spingere alcuni degli altri esponenti ortodossi a chiedere una propria autonomia, cioè di diventare, come si dice, autocefali, cioè a creare una chiesa sempre ortodossa ma autonoma da Costantinopoli, che ovviamente sarebbe potuta essere molto più controllabile da parte degli italiani. Questa situazione esplose nel 1935, quando in seguito a scontri di tipo religioso, diciamolo chiaramente, anche se poi negli anni vennero venduti come nazionalisti, ma scoppiarono principalmente per motivi religiosi, nell'isola di Kalimnos, che vi ho detto era una delle isole che maggiormente si ribellavano al dominio italiano, scoppiò la cosiddetta Guerra delle Pietre, con cui i cittadini, soprattutto le donne peraltro, soprattutto le donne, cercarono di cacciare gli italiani che stavano cercando di imporre un prete che seguiva quest'autocefali e che era accusato di essere vicino agli italiani, le donne cercarono di cacciare i carabinieri italiani sbarcati sull'isola. Sono famosi questi scontri perché proprio a lanciare le pietre contro gli italiani furono principalmente delle donne. Ora, ci sono dei resoconti che ci dicono che proprio l'organizzazione di questa rivolta fosse stata organizzata dalle donne, peraltro sobillate e guidate anche da alcune suore locali, secondo altre versioni invece sarebbero stati gli uomini ad organizzare la rivolta ma avrebbero mandato avanti le donne a lanciare le pietre perché questi sapevano che gli italiani non avrebbero sparato sulle donne o almeno avrebbero atteso a farle. Secondo quanto si racconta, ad un certo punto però anche un ragazzo, un pastore locale, trovatosi in mezzo alla rivolta, iniziò a lanciare delle pietre. Gli italiani a lui spararono invece e la sua morte fece fuggire la folla. Se volete approfondire questa storia, vi posso consigliare anche un video perché due anni fa Simone di Nova Lezio ha dedicato proprio un video a questa storia. Ve lo metto in descrizione così potete approfondire. Tutti questi lenti investimenti, tutto questo lento avanzare, aveva due scopi. Da una parte cercare di far crescere economicamente la colonia e bisogna dire che ci riuscì. Anche se andate a vedere i vecchi cinegiornali, ovviamente i dati sono completamente finti e assolutamente aumentati o vanno a scegliere dei dati volutamente favorevoli. Ad esempio c'è un cinegiornale bellissimo in cui ricordo aver visto che il commentatore vantava il fatto che tra 1922 e 1935 ci fosse stato un netto aumento del turismo, senza dire che nel 1922 c'era una guerra in corso letteralmente dall'altra parte dello stretto e soprattutto era appena finita l'arma guerra mondiale. Facezie. Che le isole poi falsificassero i dati era una cosa assolutamente nota. Abbiamo delle lettere a Roma, nei vari ministeri, in cui tutti si lamentano del fatto che i dati sul commercio, sulla produzione delle isole che arrivavano fossero completamente falsi. L'altro motivo per cui le isole erano però importanti, almeno fino al 1936, continuava ad essere quello economico-commerciale. Cioè, se le isole non potevano più essere un ponte per una conquista militare dell'Anatolia, potevano però continuare ad essere un ponte per un ingresso dal punto di vista economico dell'Italia in Anatolia. Anche perché per molti anni gli italiani furono molto dubbiosi sulle possibilità della Turchia di mantenere l'ordine sotto Mustafa Kemal e continuarono a pensare che una volta che la Turchia fosse nuovamente piombata nella povertà o nei disordini, l'Italia avrebbe potuto usare il dodecaneso per penetrare nuovamente nella penisola anatolica, cosa che gli era stata preclusa dopo il fallimento del Trattato di Sèvre. Nel 1936, però, le cose cambiarono. I 1935 e 1936 sono gli anni della guerra d'Etiopia, lo vedremo poi nella prossima puntata. Sono gli anni in cui l'Italia iniziò a trovarsi in scontro con altre potenze, a cominciare dalla Francia, ma poi soprattutto contro la Gran Bretagna. Sono gli anni in cui improvvisamente l'Italia iniziò a sentirsi isolata all'interno del Mediterraneo e allora le isole del dodecaneso improvvisamente acquisirono una grossa importanza non più dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista militare. Un perfetto esempio del cambiamento dell'impostazione sulle isole fu il cambiamento del governatore, perché nel 1936 Lago fu costretto a lasciare la sua carica e venne sostituito da Cesare Maria De Vecchi, uno dei quadrumviri fascisti. Fascista della primissima ora, appunto, era uno dei quadrumviri, uomo fedelissimo al Duce, che quando arrivò sulle isole iniziò a fare due cose. La prima fu a militarizzarle, perché negli anni tra 1936 e 1939 si passò dalla presenza di 2.000 militari italiani a 20.000 militari italiani, e quindi 10 volte di più, senza contare 5.000 marinai, aviatori e quant'altro. Questo numero raddoppierà ulteriormente per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia entra in guerra nel 1940 saranno diventati 40.000, a indicare quanto fosse importante l'isola. Dall'altra parte, De Vecchi metterà completamente da parte tutte le lentezze politiche di Lago e letteralmente entrerà a gamba tesa sulla vita dell'isola. Inizierà addirittura a cambiare l'isola dal punto di vista dei monumenti, degli edifici. Addirittura interverrà sugli edifici costruiti da lago, molti dei quali, come vi dicevo, erano costruiti in uno stile locale, andando o a eliminare o addirittura a demolire l'edificio per poi sostituirlo. Ad esempio, l'Hotel delle Rose, di cui vi ho detto prima, vide tutti i fregi di stampo simil moresco essere eliminati per essere sostituiti da uno stile razionalista italiano. Ovviamente, la sua furia non si abbattè solo dal punto di vista degli edifici, poi vabbè, vennero costruite statue, edifici nuovi del nuovo stile, addirittura vennero messe delle statue di imperatori romani e si disse che l'Italia imperiale era tornata laddove già governava Roma. Ovviamente, la sua furia si ribaltò anche sulle popolazioni locali, su cui iniziò, innanzitutto, a eliminare praticamente quasi tutte le autonomie ancora esistenti, cercando di imporre il governo centrale, cosa peraltro che fu ovviamente favorita dall'arrivo delle truppe, perché se prima l'Ago aveva poche truppe a disposizione e doveva controllare col bilancino gli avanzamenti per evitare rivolte, ora che le truppe erano decuplicate, si poteva controllare le isole in maniera molto più facile. Dall'altra parte, iniziò ad imporre alla popolazione anche tutta una serie di regole molto più stringenti, cercando in tutti i modi non solo di italianizzare la popolazione greca, ma soprattutto di fascistizzarla. Ora, questa situazione, come potete immaginare, creerà un grossissimo malcontento, un grossissimo malcontento, De Vecchi agirà come un cristallo in una, come un elefante che lo scusa in una cristalleria. Abbiamo ad esempio una perfetta definizione di lui nei diari di Ciano, in cui viene definito letteralmente un imbecille, testuali parole, per come si stava muovendo sulle isole, un imbecille, soprattutto perché, come diceva Ciano, che sapete, non era molto favorevole all'entrata in guerra dell'Italia, con il suo sconsiderato operato stava in realtà spingendo la Grecia e l'Italia uno contro l'altro, cosa che in effetti Mussolini voleva e qualcuno dice che l'invio di De Vecchi fosse servito anche a quello, ma che ovviamente Ciano non voleva. La cosa è importante perché in realtà i rapporti tra la Grecia e l'Italia, diciamo da 1925 in poi, erano progressivamente migliorati. La Grecia, pur continuando a definire il dodecaneso come territorio occupato, aveva accettato che l'Italia continuasse a mantenerlo in una sorta di situazione in cui non te lo riconosco ma neanche che è aiuto dei movimenti di autonomia locale. Le cose nel 1939 e 1940 cambiarono e la popolazione locale in effetti rispose tanto che si stima che tra i 1500 e i 2000 isolani ovviamente greci e ortodossi avessero abbandonato le isole per andare a combattere in Grecia quando questa venne attaccata dagli italiani ovviamente fuggendo di nascosto sfruttando sempre i vari contrabbandieri che continuavano a fare il loro lavoro da una parte e dall'altra. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale il dodecaneso perderà anche quest'ultimo governatore civile passerà sotto il controllo militare verrà prima governato da Ettore Bastico poi verrà controllato dall'ammiraglio Inigo Campioni che sarà il suo ultimo governatore. L'8 settembre del 1943 come purtroppo abbiamo già raccontato quando ci fu l'armistizio iniziarono anche sulle isole gli scontri tra i tedeschi che si erano venuti a insediare nella zona e gli italiani scontri che videro gli italiani seppur più numerosi venire sconfitti molti di loro uccisi molti altri deportati verso la Germania faranno parte dei famosi Imi e gli altri rimasti quei pochi rimasti unirsi invece ai tedeschi nel controllo di queste isole un controllo che rimarrà addirittura fino al 1945 anche se alcune isole saranno occupate dagli inglesi fin dal 1943 in questi anni la vita su quelle isole sarà ancora più dura i tedeschi non solo saranno molto più duri verso le popolazioni greche ma deporteranno praticamente tutta la comunità ebraica 1800 persone che verranno portate nei campi di concentramento e alla fine della guerra ne tornerà vivo appena un decimo le popolazioni locali saranno sottoposte a vari soprusi che appunto dureranno fino al 1945 nel 1945 il dominio delle isole verrà ovviamente sostituito dai tedeschi passerà agli inglesi e da qui passerà poi nel 1947 con i trattati di pace definitivamente alla Grecia la storia di queste isole però rimane molto interessante rimane molto interessante perché possiamo vedere due tentativi molto diversi di gestirle quello di lago da una parte lento che prevedeva un'assimilazione nel giro di una addirittura due generazioni e che puntava soprattutto sugli aspetti economici un'altra quella di De Vecchi che aveva fretta di assimilare voleva farlo con l'uso della forza e che aveva obiettivi principalmente militari l'altra cosa molto interessante che vorrei che vi rimanesse è lo spirito delle popolazioni sotto il dominio italiano ora non pensiate che le popolazioni locali accettassero di buon grado quello che era il dominio italiano dall'altra parte però le popolazioni locali soprattutto nel 1920 22 in qualche modo temevano di tornare e passare alla Grecia perché pensavano di perdere tutta la loro autonomia e per questo nel 22 avevano scelto di rimanere sotto gli italiani senza spingere troppo per un ritorno alla Grecia per mantenere quello che erano le loro autonomie locali anche a costo di non essere parte della Grecia non tutti l'avevano pensato così ma qualcuno l'aveva fatto e probabilmente vedendo poi come era andata a posteriori alla lunga aveva sbagliato ma questo non lo sapremo mai oggi se andate a Rodi come mi mando ogni tanto le foto Francesca troverete ancora tantissimi monumenti costruiti dagli italiani edifici costruiti dagli italiani e che ricordano questo passato di questa colonia abbastanza dimenticata bene io finisco qui vi ricordo ancora che se volete approfondire soprattutto dal punto di vista economico e politico fino a 1936 in descrizione vi ho messo la tesi di Filippo Marco Espinoza che ripeto sono 300 pagine di informazioni con tutte le fonti che non si trovano da nessunissima parte per il resto come sempre io ringrazio gli abbonati i Patreon i primi che si sono iscritti siete già veramente tanti vi ringrazio tantissimo perché anche grazie al vostro sostegno nei prossimi mesi questo canale si spera che continuerà a crescere per proporvi nuovo materiale per quanto riguarda la serie sulle colonie italiane ci prendiamo una settimana di pausa saltiamo una settimana quindi non il prossimo lunedì ma tra due lunedì torneremo a riprenderla per le ultime tre puntate di questa serie poi magari ce ne sarà qualcuna di contorno che dedicheremo invece all'Etiopia e lo faremo ve lo dico già grazie a una collaborazione con Parabellum che è un canale di storia che in passato ha dedicato tre video anche lui all'Etiopia e a cui rimanderò per tutta la parte militare ma vedrete un po' in quelle tre puntate come sarà quindi come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista va mai alla fantasia di mettere nelle sue opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pido riuscite fino adesso noi ci vediamo presto con nuove pidole di storia a presto ciao 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 Grazie a tutti.